L'Associazione Italiana dei docenti e dei ricercatori di organizzazione aziendale, di cui mi onoro di essere il vicepresidente, ha deciso di organizzare, nei giorni che precedono l'annuale workshop che si terrà qui a Genova, un evento dedicato specificamente ai giovani che stanno intraprendendo la carriera universitaria. Alcuni colleghi si sono coinvolti nella progettazione e nell'organizzazione dell'evento, mettendo a fattore comune anche le loro relazioni internazionali. Il risultato è un programma decisamente bello ed entusiasmante. Il Doctoral Early Scholar Career Workshop rappresenta un evento che si tiene per la prima volta nell'ambito della comunità di organizzazione aziendale. Ci proponiamo con questo evento di fare networking tra i giovani dottori di ricerca, tra tutti quei giovani che stanno all'inizio della loro carriera accademica. Oggi siamo a l'OA, il Doctoral Consortium, e vi darò una parola qui sull'academia e di essere un'academia nel 2021. Il corso di questo colloquium, il Doctoral Student Colloquium, è introdurre gli studenti dottori e gli studenti di scuola iniziali per le complizioni, i problemi e le strategie che possono usare per sviluppare la loro carriera accademica. Questo implica problemi di insegnamento, di ricerca, di servizio accademico, e di come possono meglio navigare le complesse, molte comunità complesse che potrebbero incontrere come un'academia. Oggi ho incontrato i dottorandi che hanno partecipato al primo Doctoral Colloquium del dell'OA. È stato veramente un momento speciale, un momento molto emozionante per la bella organizzazione di queste due giornate assolutamente stimolanti per i nostri giovani dottorandi. Io ho partecipato con grande soddisfazione, onore e anche gioia a questo momento perché nella mia carriera, oltre ad essere direttrice, sono stata coordinatrice del dottorato e so quanto per i giovani dottorandi siano importanti a questi momenti di confronto. In questo workshop ho la possibilità di conoscere ricercatori all'inizio della propria carriera scientifica, far gruppo e dibattere su molti temi. Inoltre l'associazione ASIOA ci permette di seguire dei seminari che permettono a noi nuovi ricercatori e giovani di migliorare le nostre skill di ricerca e di stesura di articoli scientifici. I am an assistant professor in Lewis Guido Carli University, before which I was an assistant professor in Utrecht University in the Netherlands. So, as you see, I am new in Italy and I would like to meet the Italian academy community in the field of organisational studies and I would like to learn how to form a career in Italy in organisational studies. And that is the reason why I am attending the World Early Scholars Career Workshop today and tomorrow. Thank you.